Appassionati d'opera, in visione e in ascolto, ben ritrovati. Ben ritrovati con Micaela, in realtà non è Micaela, ma Maria Cazzarava. Ho detto bene perché poco fa ho fatto un tentativo sbagliando clamorosamente il cognome. Stavolta Cazzarava è giusto. Hai fatto bene. Grazie. Che appunto interpreta Micaela qui in uno dei due cast della produzione di Carmen. Intanto benvenuta perché è la prima volta. Allora mi dicevi a microfoni spenti prima, adesso lo riveliamo a tutto il mondo invece, che debuti il ruolo di Micaela e debuti anche per la prima volta in un teatro nuovo, in questo teatro, giusto? Sì, sì è vero. Sono molto felice di essere qui al mio debutto al Teatro Carlo Felice di Genova con il ruolo di Micaela che è la prima volta che lo canto. Allora per me è una grandissima fortuna di lavorare con un grandissimo regista che è Davide Livermore. Sono veramente fortunata. Sì, tra l'altro in questo allestimento di Carmen molto particolare perché è un allestimento molto diverso dalla Carmen solita. È un allestimento spostato come epoca, come costumi. Sì, succede nell'anni 1959 nella Cuba. Tra prima e dopo la rivoluzione cubana. Allora per me è più vicino a me, alle mie radici. Giusto. Perché sono metà messicana, allora per me diventa più vicino, allora io lo sento di più. E mi piace molto questa produzione, è veramente una delle più belle produzioni di Carmen che ho mai visto. Su questo stiamo creando aspettativa per venerdì, questo ci fa estremamente piacere. Sì. Il ruolo musicalmente, il ruolo come canto, com'è il ruolo di Micaela? Impegnativo? Ebbene, la Micaela si diventa abbastanza impegnativo. È un ruolo, non piccolo, ma che appare in tre atti. Certo. Quasi tutto su duetti, no? Sì. Poi è molto lirico, molto pesante e ha un'aria veramente grande, grande. E lì tu devi provare che sei veramente presto per fare quest'aria veramente pesante, perché è di un grandissimo lirismo. Tutti i grandi soprani hanno fatto... È estremamente conosciuta tra l'altro, certo. È stato molto conosciuto di grandi soprani, allora... Sì, questo è un po' il rischio. Prima o poi i ruoli bisogna debuttarli. Chiaramente se uno canta un'opera che non conosce nessuno, quando si canta Carmen, il pubblico l'ha già sentita. È vero. Carmen, per cui è... Eh, ma su questo noi siamo sicuramente, anzi, sono belle proprio le sfide, perché sennò uno non le debutta mai il ruolo. Prima o poi bisogna cominciare. Eh, prima o poi sì. Meno male che qui a Genova, anzi, ci fa piacere. Ma sono felicissima di essere qua, eh. Con una bellissima produzione di debuttare qua, la Micaela, veramente mi fa piacere. Fra l'altro, in questa edizione, Micaela, ne avevamo parlato proprio con Davide Livermore, non è quel personaggino che sembra disegnato da un acquarello, è la rivale di Carmen, è una donna estremamente... estremamente donna anche lei, perché di solito c'è Carmen e poi c'è Micaela, che è quella che viene dal paese. Qui è una... è una... è l'altro lato di Carmen, diciamo. Sono due donne innamorate dello stesso uomo. Quello che mi ha piaciuto di più in questa Carmen è che la Micaela non è trattata come una tonta. Eh sì, perché poverina un pochino sempre. Che è forte. Qui in questa produzione la Micaela è una donna forte, di personalità grande e quello mi fa piacere perché io sono così. Io di solito sono una donna che fa i ruoli forti, no? Allora mi piace. Qui diventa anche Micaela diventa... diventa un ruolo forte. Sì. Visto che debuti anche giustamente... intanto il teatro ti piace qui di Genova, la sala proprio, il Carlo Felice? È proprio bellissimo il teatro di Genova. Sono veramente commossa, sono veramente felice di lavorare qua. La produzione, la compagnia, tutta la produzione è veramente simpatica, si lavora bene e organizzata. Eh, questo... ma ogni tanto ripetiamolo che fa anche piacere. Su, ci mettiamo un po' di fiore all'occhiello del teatro che è una cosa bella. Senti, dicevi che sei un po' messicana e un po' georgiana, giusto? Giusto. Raccontaci un po', come mai sei? Metà mio padre è georgiano e poi mia madre è messicana. E dal cognome, giustamente. Però sei nata in Messico. Sono nata in Messico. Ma anche i tratti somatici sono effettivamente estremamente, estremamente messicani. Infatti qui abbiamo in un cast sia Daria Covalenco che Marina Ocli che vengono truccate da sudamericane perché sennò sono... Diventa più difficile, però. Sì, le fanno diventare. Tu non hai bisogno. Io non ho proprio bisogno. Assolutamente nel personaggio. Sì. Senti, ci fa veramente tanto piacere averti avuto qua come per la prima volta ospite, speriamo proprio non per l'ultima, nel senso adesso sei venuta. Ma neanche io. Conosci la strada di Genova, speriamo proprio di vederti in altre produzioni. Ma grazie mille, per me è un grandissimo piacere. Maria Maria. Eccola qua. Prego. Dove vuoi? Dove trovi posto? Benissimo. Qui c'è Meli che è un po' megalomane, si è preso mezza locatina. Perfetto. Grazie mille. Alla prossima. Grazie a tutti voi. Grazie mille.